Grazie a tutti! Non è la cronopica di ieri e vanno scatenati all'arrivo e fanno anche volata Luca Pares e Donno, 101,14. Non è la cronopica di ieri e vanno scatenati all'arrivo e fanno scatenati all'arrivo e fanno scatenati all'arrivo. Non è la cronopica di ieri e vanno scatenati all'arrivo e fanno scatenati all'arrivo. Non è la cronopica di ieri e vanno scatenati all'arrivo e fanno scatenati all'arrivo e fanno scatenati all'arrivo. E' la cronopica di ieri e vanno scatenati all'arrivo e fanno 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 scatenati all'arrivo. Di Pola e Moressa, di Pola e Moressa. Meglio, 78, 101, campana, campana, campana. Bravo, bravo, bravo. Ecco i soldati che viene. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. E... Sì! Sì! Sì!